Da meritare Come sono considerate le evocazioni dalla Chiesa? Commento Secondo la cultura religiosa veterotestamentaria, le evocazioni erano un peccato talmente grave da meritare la morte. Levitico 19,26b 19,31 Geremia 29,89 Per questo i testi sacri non specificano la dinamica della prassi evocatoria, fatta eccezione per l'episodio che vede come protagonista il re Saul. La negromante di Endor è lo spirito di Samuele, primo Samuele, 28,7.11 L'episodio merita di essere riportato per intero. Endor, che significa fonte di Dor, era un villaggio appartenente alla tribù di Manasse, nel quale si trovava una donna pratica di negromanzia. Saul si recò da lei per interrogarla sul futuro e farsi evocare lo spirito di Samuele. Il testo biblico recita. Disse perciò Saul ai suoi servitori «Cercatemi una donna data alla negromanzia, che voglio andare a consultarla». Gli risposero i suoi servitori. Ecco, in Endor una donna pratica di negromanzia. Disse la donna «Chi ti ho da evocare?» Rispose «Evochami, Samuele». Altri luoghi veterotestamentari in cui, non negando la medianità, si esprime la proibizione di evocare i morti e di interrogarli, sono Esodo 22.17 Deuteronomio 18.11 Primo libro delle cronache 10.13 Isaia 8.19